E' ancora Luca Innocenzi, cavaliere plurivincitore di Porta Solestà, il favorito per la Quintana a poche settimane dalla giostra del 10 luglio. E' quanto emerso dalle prove ufficiali cronometrate andate in scena sabato sera, una simulazione di gara. Il cavaliere gialloblune la prima tornata in sella a Love Story ha chiuso in 51,7 con tre centri al tabellone. Nella seconda invece ha provato l'angloar a Bottagica chiudendo in 52 secondi e colpendo tre centri. Nella terza tornata Innocenzi non ha spinto, ha provato soltanto Amici chiudendo in un minuto e non fallendo al bersaglio. L'altro grande favorito Massimo Gubbini di Porta Tufilla invece è caduto nel corso della prima tornata in sella al Purosangue Trentino dopo il secondo assalto senza riportare conseguenze. Nella seconda invece il Rosso Nero ha scelto il Purosangue Botteghe Oscure chiudendo in 54,2 e colpendo tre centri. Nella terza tornata Gubbini ha chiuso in 52,6 in sella a Trentino mancando un solo centro al tabellone. Esordio allo squarcia poi per Pierluigi Chicchini, nuovo Cavaliere di Sant'Emidio. In sella a Lucchemasing nella prima tornata ha chiuso in 52,8 ma con un solo centro al tabellone. Poi Chicchini ha provato sera d'estate girando in 53,9 e stavolta con tre centri. Interessante il tempo della terza tornata 51,8 in sella a Lucchemasing ma con 2,80, un 60 al bersaglio e tre penalità. Lorenzo Melosso campione in carica di Porta Romana nella prima tornata ha montato il Purosangue Spetenca chiudendo in 52,1 ma dimostrandosi impreciso al bersaglio con un 60 e 2,80. Nella seconda tornata Melosso ha riproposto il vittorioso Natas Gem stavolta facendo tre centri ma girando in 52,7. Infine il Cavaliere Rosso Azzurro ha provato di nuovo Spetenca chiudendo in 52,7 mancando un centro e commettendo una penalità. Ottime impressioni anche per Mattia Zannori di Porta Maggiore che nella prima tornata ha montato tuttavia girando in 51,8 con tre centri al tabellone. Nella seconda il giovane Nero Verde ha chiuso in 52,3 mancando due centri in sella a West Grove. Nella terza invece ha girato in 53,6 ma ha mancato un centro e commesso tre penalità. Ritorno alla Quintana dopo tre anni per Nicolás Leonetti della Piazzarola che nella prima tornata in sella al Purosangue con il Cuore ha chiuso in 52,6 con due centri al tabellone. Nella seconda invece Leonetti ha chiuso in 53,6 in sella al Mezzosangue Oro di Gallura mancando due centri e commettendo cinque penalità. Tre centri infine nella terza tornata in sella sempre a Conilcuore ma con un tempo di 53,8 e una penalità.